Ci sono problemi dalla notte per chi deve viaggiare sull'autostrada 1 Milano-Napoli. È stato infatti temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e il bivio con la D18 di ramazione Roma-Nord in direzione Firenze a causa di un incidente avvenuto intorno alle 5 all'altezza del chilometro 533. Un mezzo pesante si è ribaltato bloccando la carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione Quinto Tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia. Attualmente all'interno del tratto interessato il traffico in coda transita su una sola corsia. Per far defluire il traffico presente si registra coda anche se in diminuzione in direzione Firenze. Per gli automobilisti in viaggio verso il capoluogo toscano in corrispondenza dell'uscita obbligatoria sull'A24 si consiglia di proseguire in direzione Roma, percorrere il grande raccord anulare in direzione Firenze, proseguire poi sulla D18 direzione Firenze e infine rientrare in A1. Sulla stessa autostrada ieri, altro grave incidente che ha coinvolto un'autovettura e un mezzo pesante che trasportava sacchi di granulato di materiale plastico. Il conducente dell'autovettura è stato soccorso dai vigili del fuoco di Frosinone e affidato alle cure del personale del soccorso sanitario 118. Anche in quel caso si sono registrate lunghe code.